è stato un momento che si spettacano, in ultime 48 ore, ci sono veramente uscita, ma ci sono dei voti, sui voti, e poi ci sono presi, etc. Quando ci sono un momento di quelli che si possono fare un Secondo meeting, a parte della situazione finanziaria come partito, non sono sumamente preoccupati. Un giorno del politico li ha mostrato i sacchi, potevano. Un anno in meę passare, e mi chiede e mi senti che è più che non c'è informazione che noi sentiamo che finanziare un presupposto di 12 milioni di deficit e a mi calcular secondo me mi brinca con il nostro piano di 13 milioni di deficit se non vai considerare una entrata incidentale che aveva ponito in presupposto di Aruba e questo significa che è un governo solido un governo che è capace un governo che è preparato e due partenze che ho menzionato anche per fare un'analisi per il programma che ci sono offrezzate una campagna con un altro obstacolo con un'occhia di un altro e mi chiede ci sono a base di sincerità a base di capire con il altro preparare un buon plan di governazione se aceita la volontà di informatore o formatore di un anno solante e di partecipare nel processo Acquiseguro